bene allora come oramai a nostra abitudine visto che abbiamo iniziato a fare meditazione sulle mudra vi darò delle informazioni per quanto riguarda la mudra che utilizzeremo questa sera la mudra principale quella maggiormente conosciuta e le sue varianti quindi tutte quelle forme che sono legate alla diciamo la forma originaria e che poi si sviluppano e si sono sviluppate attraverso i secoli anche nelle svariate culture che sono emerse dalla tradizione indiana quindi mi riferisco poi al giappone alla cina e così via tutte quelle zone nelle quali ritroviamo soprattutto della tradizione buddista quindi sono queste probabili forme che comunque sono sempre collegate ad un certo significato per quanto riguarda il significato già vi ho detto che nonostante io vi debba dare delle informazioni circa il significato generale di quella forma naturalmente durante la meditazione voi non dovete pensare a tutte quelle notizie ma dovete far sì che avendo comunque acquisito delle informazioni quindi la mente le ha registrate e quindi anche se non razionalmente da un significato rispetto al sentimento che quella forma normalmente noi adoperiamo delle mudra attraverso la gestualità delle mani quindi naturalmente questo queste notizie che sono oramai sepolte nella memoria e non si cancelleranno ricordate che se a volte ci capita nella vita di aver dimenticato qualcosa magari anche qualcosa di importante non ha detto e non vuol dire questo che l'informazione sia stata cancellata dalla vostra esperienza ma rimane lì si tratta solamente di attingere immediatamente quindi qualsiasi cosa noi apprendiamo tutte queste cose restano restano il bagaglio culturale e d'altra parte se non fosse così noi non avremmo come esseri umani la possibilità di sviluppare le nostre conoscenze di crescere non solamente in senso fisico e biologico ma anche in senso culturale morale etico e quindi riallacciandomi a proia all'invito che vi ho fatto all'inizio evitate di conciliare la vostra esperienza silenziosa con le nostre discorsive razionali ma fate in modo che quella forma che avete assunto che avete assunto con le vostre con la vostra gestualità con le mani esprima se stessa e quindi sia quella forma che suggerisce un sentimento particolare una cosa importante questa sera visto che ci sono almeno tre variabili di questa mudra e poi vi dirò di che si tratta noi dopo aver mantenuto la prima forma passeremo questo probabilmente lo farete da soli quindi io non voglio entrare durante il vostro silenzio perché romperei quel silenzio e quindi vi riporterei nell'ambito della circostanza della condizione dialettica della mente questo va assolutamente evitato io vi ho già detto che nella meditazione almeno di questo tipo di meditazione il silenzio è fondamentale il silenzio acustico il silenzio della mente il silenzio dell'animo quindi è qualcosa che affiora di per sé e che riverbera all'interno della sua realtà non attraverso il filtro della mente razionale quindi probabilmente lo farete da soli io non vi suggerirò i tempi anche perché i tempi non posso suggerirveli perché ciascuno di voi ha dei tempi specifici allora cosa succede che normalmente dedichiamo che so un quarto d'ora almeno alla meditazione diciamo che essendo tre forme orientativamente dopo cinque minuti dovreste cambiare in silenzio la mutra passare alla seconda forma e poi eventualmente alla terza poi vedremo di che si tratta questo perché perché non essendo la mente a decidere che cosa fare cosa che è quotidianamente che avviene quotidianamente nella nostra giornata noi programmiamo tutto programmiamo il nostro lavoro la nostra vita i nostri impegni le nostre relazioni quindi la mente è sempre sul fronte sicuramente cercando ovviamente non mi aspetto che tutti voi dopo un po di tempo in fin dei conti non è tantissimo che stiamo facendo questo tipo di esperienza acquisiate la capacità di mantenere la mente in silenzio sicuramente intervengono dei pensieri sicuramente intervengono delle riflessioni anche se noi non vorremmo che succedesse questo ma il tempo ovviamente ha bisogno di sedimentare questa esperienza quindi non potete farci niente si tratta solamente di procedere ripetutamente a questo tipo di esperimento e quindi dicevo passare da una forma di una mudra magari dalla forma principale all'altra significa suggerire all'animo attraverso non il pensiero ma attraverso la forma delle mani una modifica qualcosa che si trasforma eh questo è normale nell'essere umano perché noi eh ovviamente non ci pensiamo siamo troppo portati sulla aspetto pragmatico della vita quindi quando lavoriamo pensiamo al momento in cui stiamo lavorando quando accudiamo all'educazione dei nostri figli stiamo pensando a quel momento in cui dobbiamo impartire l'educazione ma non pensiamo mai che a monte di quel comportamento c'è ovviamente qualcosa che l'ha determinato capite quindi voglio dire non è che come andavamo a scuola mi ricordo che noi studenti quando si studiava la storia si passava dal medioevo poi si passava improvvisamente al rinascimento come se fossero quest'epoca storica e tanti compartimenti stagni e ieri era medioevo domani sarà rinascimento no non è così ci sono degli intervalli ci sono dei momenti di trasformazione il cosiddetto lievito del tempo e se non ci sono questi momenti di trasformazione naturalmente non ci può essere quello che noi ci aspettiamo che venga oppure quello che stiamo vivendo in quel momento quindi oggi io vivo tutti i precedenti del tempo passato e sto sperimentando ma d'altra parte questo è un concetto fondamentale nella cultura indiana adesso non mi posso soffermare in questo discorso perché andrei a sacrificare il tempo che dobbiamo dedicare alla nostra seduta però è normale che sia così solo che nel concetto occidentale c'è il progresso segnato come una retta che avanza continuamente nel tempo ciclico sia nel tempo della cultura indiana la cosa è ben diversa quindi per noi il progresso con la più maiuscola è fondamentale se non c'è progresso non c'è avanzamento la cultura indiana non è così ovviamente e quindi questo ci permette di fare questo tipo di riflessioni cioè ci permette di recuperare i semi del passato facendoli germogliare oggi quindi questo vuol dire anche tra l'altro che oggi sto sperimentando quello che ho seminato ieri noi i proverbi ce li abbiamo solo che li diciamo così tanto per riempire un discorso ma poi non riflettiamo su quello che poi vogliono significare e allora spostarsi da una da una forma da una gestualità ad un'altra significa modificare qualcosa cioè modificare quello che c'era prima aggiustarlo e entrare in sintonia con un altro sentimento con un altro tipo di espressione questo permette veramente di sperimentare una meditazione fruttuosa quindi è qualcosa che non è sterile e io mi concentro solamente su una cosa ma è anche se non parla razionalmente ma parla come sentimento bene allora concludo qui perché altrimenti se comincio a parlare io poi mi conosco vado troppo avanti e magari brucio tutto il tempo che abbiamo a disposizione questa sera un'altra nota forse anche troppo è diventato come sempre il solito ritornello di cui l'occidente si avvale e che inserisce nei discorsi che sono meno poi pertinenti a quel tipo di nomenclatura angeli mudra che cos'è angeli mudra è quella mudra che tutti conoscono e che si esprime attraverso il gesto del saluto normalmente sono le mani giunte con la punta delle dita che sta più o meno all'altezza del del mento allora questa è la forma principale cos'è è una forma di salute è una forma molto spesso di preghiera se la troviamo nella raffigurazione iconografica dell'india antica quindi scultorea e nelle raffigurazioni nei dipinti e così via poi ovviamente la cultura occidentale riesce a dare con l'aiuto della new age e chi mi conosce sa che sono molto molto polemico con questa corrente diciamo tra virgolette culturale riesce a dare poi dei significati che insomma vanno un po al di là li abbiamo costruiti noi in occidente e poi gli abbiamo abbiamo detto che sono indiani ma non è così quindi questo è il sogno del saluto normalmente associato a questo gesto c'è l'espressione vocale namaste ora namaste è un'espressione che si riferisce all'ambito spirituale ma quando mai noi per strada magari conoscendo qualcuno che pratica yoga intendiamo salutarlo in maniera spirituale con il namaste magari per strada o con un sorriso con una battuta assolutamente no allora ci sono due forme vocali il namaste si usa normalmente quando ci si riferisce ad una persona che condivide quella esperienza spirituale quindi è in un certo ambito della conoscenza oppure addirittura quando si saluta un maestro spirituale quando si sta per strada quando si sta giocando si sta al bar c'è il namaskar che è profano è una forma profana il namaskar capite invece in in occidente si conosce solamente il namaste e si usa così come tante altre forme diciamo altre forme della nomenclatura così proprio in maniera molto molto generalizzata che poi non significano niente e allora diciamo che la prima è questa quando notiamo che la supera il livello del mento e si porta verso la fronte naturalmente questa è una forma più elevata d'altra parte le mani sono elevate e questa forma prende angeli bandana eh quindi che 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 significa angeli bandana poi nel filmato vi scriverò come faccio oramai vi siete accorti questa questa questo questo nome proprio con diciamo con le lettere giuste le aspirazioni giuste angeli bandana che significa pressa poco letteralmente il salutare quindi l'atto del salutare allora eh noi non faremo l'angeli bandana questa sera ma ci limiteremo solamente alla forma essenziale della mudra angeli la prima forma è questa la seconda è mentre qui in angeli la forma principale è con i palmi delle mani uniti nella seconda forma eh i palmi si aprono si dischiudono e restano le mani unite attraverso il bordo esterno quello dei mignoli con le dita la puntalità leggermente è un'altra forma di angeli ed è soprattutto utilizzata eh chi è stato in india lo sa dai mendiganti da coloro che chiedono le lemosina da coloro che chiedono anche il rispetto degli altri insomma una forma di sostentamento eh quindi questa è è ancora una forma di angeli ma naturalmente questo è l'aspetto più immediato poi mh il la mudra va sviluppata in tutto in tutti i suoi eh contorni quindi in senso diciamo umano in senso spirituale non riferito solamente al chiedere qualcosa eh capite quindi è questo che voglio dirvi cioè non limitatevi solamente al significato più immediato ma fate sì che comunque quando le mani sono giunte e quindi sono unite eh diciamo di significati ce ne possono essere tanti ma non voglio darveli perché eh basta semplicemente poi voi sapete che questo è il segno della preghiera ma non è un un modo di pregare questo è un modo di rispettare che ci sta di fronte rispettare quindi è qualcosa di chiuso perché i palmi sono chiusi poi si aprono quindi è un rispetto ancora maggiore vedete cioè quando qualcosa si dischiude emana dei significati secondari che poi sono secondari solo dal punto di vista razionale ma non sono meno importanti dal significato principale e eh la terza forma sarà questa la terza forma dell'angeli è questa cioè con le le mani a coppa vedete si aprono con le dita leggermente curve ripiegate come un fiore che si sboccia ecco esattamente come un fiore che si sboccia i polsi sono uniti quindi noi passeremo da angeli forma ehm eh diciamo essenziale la seconda e questo esprimerà quando siamo entrati nella forma principale c'è un sentimento che si prova dentro questo sentimento si sviluppa nella modifica nel sviluppo della diciamo della gestualità e poi prende un altro significato ancora più ampio vedete quindi non non adopereremo l'angeli bandana che sarebbe questo perché poi naturalmente questo si può fare per un secondo ma stare così per alcuni minuti significa stancarsi e quindi non riuscire a meditare ma semplicemente riuscire a sentire la stanchezza delle braccia e delle spalle quindi diciamo che orientativamente sarete voi a decidere quando passare dalla angeli prima forma alla seconda e poi alla terza che cosa significa questo è il modo per sentire come funziona la gestualità perché se io ho una sensazione un'esperienza in una forma iniziale l'esperienza poi si modifica quando passa questa lo devo percepire non razionalmente ma eh non è possibile esprimere questi concetti verbalmente perché noi apparteniamo all'agricoltura che non che non è non familiarizza con queste cose quindi dobbiamo semplicemente sperimentarlo su noi stessi e vedere che cosa provoca dentro di noi bene allora questo chiude il discorso perché insomma ne ho già adoperato parecchio di tempo per quanto riguarda la mudra e anche questa sera per quanto invece riguarda la pratica eh questi ve li dovete procurare io mi auguro perché oramai vedete che fanno sempre parte della nostra esperienza e dalla probabilmente la prossima volta io vi eh chiederò di acquistare costa poco più di una decina di euro comunque eh lo trovate o lo trovate sui mercati internet è un rullo un rullo di plastica duro eh vi ricordate la volta precedente non abbiamo fatto adoperato la coperta arrotolata però la coperta si schiaccia quindi non è detto che sia comunque efficace com'è questo rullo oramai fa parte degli attrezzi che si usano normalmente nelle sedute di yoga e questo rullo poi servirà adoperando sicuramente non ce l'avevate perché forse neanche ancora la conoscete ma eh adoperando la coperta abbiamo cercato di recuperare un'estensione della colonna vertebrale ma adoperando questo rullo è fatto è stato studiato apposta eh vedrete che l'estensione è maggiore ma a noi servirà per lo stiramento muscolare quindi faremo un'esperienza che si basa almeno la prima parte eh soprattutto fondamentalmente sullo stiramento dei vari tratti muscolari e vedremo come quindi è fondamentale ed essenziale quindi io vi invito insomma non vi sto chiedendo di comprare qualcosa che costa un occhio della testa ma sono delle degli strumenti dei gadget diciamo così che sono insomma sicuramente alla portata di tutti bene allora chiudo chiudo la mia chiacchierata e ci distendiamo per alcuni istanti in silenzio perché visto il tempo che abbiamo che ho impiegato per darvi queste informazioni adesso dobbiamo un po' recuperarlo quindi non faremo una preparazione prende cattura parecchi minuti ma semplicemente cercando di sentirci rilassati a livello muscolare fisico quindi ci distendiamo a terra gambe divaricate le braccia come sempre distanti dai fianchi e cerchiamo di sentire soprattutto per alcuni istanti l'andamento del nostro respiro localizzate lo fondamentalmente attraverso il movimento elastico della pancia attraverso il movimento elastico della pancia bene dobbiamo chiudere questa fase preliminare ci solleviamo e ci sediamo sulle caviglie e qui ci incliniamo in avanti portando trasferendo le braccia dietro quindi il dorso delle mani appoggiate a terra le ginocchia sono un pochino distanti tra di loro in modo tale che proiettando il busto davanti si possa permettere alla fronte di poggiare a terra quindi solamente qualche secondo e in questo modo già cominciamo a sentire l'allungamento parziale della colonna vertebrale soprattutto la sua condizione rilassata allora per alcuni istanti naturalmente come sempre possiamo ad operare delle circostanze che sono sempre presenti attraverso il respiro in questo caso mi riferisco alla pancia che va e viene andando ad incontrare il lato interno delle cosce cercate di rilassare bene le spalle di abbandonarle giù di sentire che effettivamente il peso del capo è appoggiato a terra attraverso il contatto della fronte e facciamo solamente qualche respiro diciamo che questi primi esercizi o queste prime posizioni semplicissime come oramai è nostra abitudine lo è stato da sempre nei nostri nei nostri incontri è destinato a sbloccare le articolazioni alcune volte altre volte adoperando sia posture tradizionali che non che sono solo magari di preparazione questo è il mio scopo quindi è proprio una preparazione che ci aiuta poi ad affrontare in maniera più diretta e più conveniente tutte le posture gli asana di yoga quindi ancora qualche istante bene lentamente sollevate la testa non fatelo troppo velocemente ma lentamente raddrizzate raddrizzate la schiena e sarete sempre seduti ma adesso con il bacino a terra e con le gambe incrociate allora prima di proseguire vediamo cerchiamo di capire di vedere quale gamba è davanti e quale dietro io ho iniziato con la gamba sinistra davanti e con la gamba destra indietro adesso cerchiamo di portare i gomiti davanti alle tibie unendo i polsi e cercando di poggiare il mento sui palmi delle mani che cosa succede che se noi non poggiamo direttamente sui polpacci ma lasciamo scivolare i gomiti fuori delle tibie sempre poggiandoli noi potremmo con il peso del tronco piano piano raggiungere il pavimento con i gomiti più o meno raggiungiamo il pavimento e ci mettiamo in questa posizione per alcuni istanti questa posizione dove lavora lo vedete subito lavora nelle anche una rotazione anteriore delle anche quindi qualche istante ci sono delle tensioni sicuramente nella zona del bacino queste tensioni sono dovute proprio ad una esigenza della struttura articolare che tenta di proteggersi perché ovviamente queste posizioni non sono comuni nella nostra quotidianità quindi qualche doloreto accompagna sempre questo tipo di esperienza però la nostra indagine ecco perché facciamo yoga non facciamo ginnastica la nostra esperienza è quella di cercare di ridurre al massimo questi inconvenienti tranquillizzando scendendo in queste zone mandandoci l'attività per respire insomma cercando di essere consapevoli tutte le possibilità che abbiamo di riduzione di questi dolori o di questi fastidi adesso ci solleviamo ci raddrizziamo e se abbiamo messo la gamba sinistra davanti adesso mettiamo la destra davanti sempre gambe incrociate e facciamo lo stesso tipo di esperienza quindi fate scivolare le braccia i gomiti giù verso il pavimento e sentirete una leggera differenza rispetto a prima bene ci solleviamo e modifichiamo il nostro intervento riportiamo la gamba sinistra davanti e la destra indietro quindi come era prima e prendiamo questi due blocchi e ci rimettiamo davanti io ho detto due blocchi poi se non li avete dovreste avere comunque una una sola non basta ma due tre coperte che sia abbiano una un'altezza pressa poco così insomma e adesso facciamo ancora una operazione di sblocco delle anche poggiate le mani sul blocco superiore e poggiate la fronte sulle mani ci solleviamo invertiamo la posizione delle gambe al contrario quindi la destra davanti la sinistra dietro se avete eseguito le mie indicazioni cioè quello che sto facendo io e di nuovo giù grazie a tutti solleviamoci di nuovo sempre lentamente procediamo con lentezza perché solo in questo modo possiamo controllare quello che avviene da un passaggio all'altro fino adesso non abbiamo stirato nulla almeno a livello del bacino abbiamo solamente cercato di mobilizzare di ampliare cioè le possibilità di movimento delle articolazioni adesso comincia lo stiramento allora mantenete il piede sinistro dove si trova con il tallone dietro verso il bacino mentre la gamba destra è aperta di circa 45 gradi all'esterno avvicinate se necessario due blocchi o la coperta e mettete mettete due blocchi alla coperta la parte centrale nel caso in cosiddetti della coperta proprio davanti alla caviglia sinistra e chiudete i due pugni uno sull'altro in verticale e poggiate la fronte sopra ecco che cosa stiamo sentendo io sono convinto al 100% che tutti state ascoltando lo stiramento del muscolo adduttore della coscia destra quello interno lasciate che il piede si sposti in rotazione spontanea verso destra cercate di non spingere il ginocchio ma far sì che l'abbandono porti proprio ad un allungamento graduale ci solleviamo naturalmente cosa facciamo esattamente pratichiamo dall'altro lato quindi gamba destra chiusa la gamba sinistra aperta di circa 45 gradi anche di più di 45 se avete questa apertura riportiamo tutte e due pugni uno sull'altro e poggiamoci sopra la fronte grazie a tutti solleviamoci non abbiamo finito lo stiramento ma non abbiamo più bisogno dei blocchi quindi li togliamo di mezzo ce ne liberiamo per il momento e cosa facciamo le gambe assumono la stessa organizzazione ma al contrario di nuovo apertura della gamba destra chiusura della gamba sinistra sempre con con il tallone verso il bacino questa posizione l'avete già fatta quindi sicuramente vi è familiare adesso giriamoci con il tronco verso il ginocchio piegato quindi verso sinistra portate la mano sinistra quindi quella relativa al ginocchio piegato a terra con il palmo a terra e una volta che abbiamo cercato di orientare diciamo in maniera anche se approssimativa va bene ugualmente il busto verso il ginocchio sinistro portiamo la mano sinistra davanti al ginocchio sinistro e facciamola scorrere lontano che cosa succede durante questo movimento che si stacca il gluteo destro va bene va bene così non è un problema cominciate ad allungare appoggiate bene se riuscite ad appoggiare il centro dello sterno del torace sulla coscia sinistra abbandonate la testa e quando vi siete sistemati ricordate che la mano sinistra vi sostiene non deve essere troppo distante dal ginocchio quando vi siete sistemati e quando c'è comunque un assestamento scorrete il posto della mano destra ancora più avanti stirate di più il braccio allontanate la mano e cercate di allungare tutto il fianco destro per alcuni stati torniamo piano piano indietro scambiamo l'organizzazione delle gambe allora la mano destra è appoggiata a terra accanto alla coscia destra giro verso destra il tronco porto la mano sinistra davanti al ginocchio destro la faccio scivolare faccia scorrere il braccio piano piano e mi abbasso qui il gluteo sinistro è sicuramente staccato dal pavimento quando sentite che c'è stato un sommario assestamento staccate sempre parlando della mano sinistra quella che sta davanti staccate i polpastrelli fate scivolare il pozzo più avanti di qualche centimetro riappoggiate tutto il palmo a terra tiriamoci indietro e ritorniamo con la schiena diritta scambio ancora delle gambe al contrario quindi la destra aperta la sinistra chiusa tallone indietro schiena diritta adesso di nuovo ruotiamo il tronco adesso questa volta verso la gamba distesa quindi la gamba destra portiamo il braccio destro all'interno del ginocchio poggiamo il gomito a terra se ci riusciamo comunque avviciniamolo al pavimento e lasciamo la mano con il palmo rivolto verso l'alto quindi siamo piegati da questa in questa direzione attendiamo qualche istante perché ci sia la possibilità di fare questa manovra adesso solleviamo il braccio sinistro su dovete girare anche il viso verso l'alto piegate il gomito portate la mano dietro la testa allora questa operazione vi permette con il gomito sinistro piegato di spingere il gomito destro a terra ancora di più il palmo della mano è sempre rivolto verso l'alto allora riprendiamo la posizione di prima quindi il viso girato un po' verso l'alto spingiamo il più indietro possibile il gomito sinistro e manteniamo questa posizione per alcuni istanti le dita della mano sinistra sfiorano l'orecchio destro e la mano tira su il capo indietro abbandoniamo lentamente torniamo di fronte scambio nella posizione delle gambe la sinistra distesa di lato anche qui almeno 45 gradi ci giriamo leggermente verso la gamba allungata poggiamo il gomito sinistro all'interno del ginocchio comunque facciamolo scendere verso il pavimento mantenete il palmo della mano aperto verso l'alto attendete un istante perché non è che il corpo immediatamente come pretendiamo si posizioni nel modo più giusto possibile ci sono delle tensioni ci sono cioè delle resistenze da parte di tutte le altre parti che sono obbligate ad assumere un certo comportamento quindi la cosa è un po' complessa più di quanto possiamo pensare adesso solleviamo il braccio destro su giriamo il pieghiamo il gomito destro portiamo la mano destra dietro la testa le dita toccano l'orecchio sinistro spingiamo con la mano indietro e ruotiamo il viso in direzione dell'alto quello che riusciamo a fare grazie a tutti E rilasciamo la posizione lentamente, torniamo frontalmente. Richiamiamo indietro verso di noi la gamba allungata, di nuovo le gambe incrociate, restiamo semplicemente seduti sulle ginocchia piegate con la schiena diritta, apriamo bene il torace in avanti spingendolo per alcuni respiri. Adesso passiamo ad una posizione di resistenza. Ci sarà una rotazione in corso alternata, ma la posizione che assumiamo, cioè la postura della barca navasana, mette in atto anche i nostri muscoli addominali e ruotando alternativamente a destra e a sinistra li facciamo funzionare uno alla volta. Ovviamente la rotazione riguarda fondamentalmente quello della colonna vertebrale. Allora, assumiamo prima di tutto la posizione frontale, quindi rimanete sugli ischi, poggiati sulle ossa del bacino, ginocchia unite, i piedi staccati in equilibrio, portate le braccia di qua e di là con le mani che puntano in avanti. Adesso, cercando di non staccare, se vi rendete conto, cercate di riunire le ginocchia, spostiamo le ginocchia a destra e facciamo in modo che tutte e due le mani vengano portate a sinistra, le braccia dritte e di palmi in avanti. Vedete, quanto più riesco a girare le ginocchia a destra, tanto più entro in una rotazione. Scambio. Le mani sono a destra, con i palmi piegati in avanti, scicco di girare il più possibile e poi scambio, per alcune volte. Usciamo dalla posizione, gambe a terra, incrociate, schiera diritta, per alcuni istanti appoggiamo i polsi sulle ginocchia piegate, e lasciamo tranquillizzare un po' la muscolatura impegnata in quella precedente operazione. Adesso, tutte e due le gambe aperte, la famosa spaccata, poco alla volta, cercate di aprire le gambe poco alla volta. Non tutto insieme, altrimenti strappate i muscoli interni delle cosce. Spingete un pochino, inclinate meglio, inclinate un pochino in avanti la schiena, il busto, in modo da sentire quanto si stanno stirando i muscoli interni delle cosce e cercate di migliorare l'apertura. E adesso continueremo con l'attività di rotazione della schiena. Iniziando a destra, la mia mano destra è appoggiata a terra, il braccio sinistro cerca di sfiorare o di raggiungere l'alluce del piede destro, la schiena non deve essere troppo piegata. Adesso sposto la mano sinistra sul pavimento, scusate, sì, la mano sinistra sul pavimento, la poggio accanto alla coscia e ruoto, prendendo con la mano destra la luce sinistra. Stateci 3-4 secondi e poi continuamente girate. Non dovete piegare il busto in avanti, non dovete portare la fronte verso il ginocchio. Stateci 3-4 secondi e poi continueremo con l'attività. Stateci 3-4 secondi e poi continueremo con l'attività. Bene, torniamo al centro. e rimaniamo nella naturale posizione a sedere le gambe incrociate qualche istante adesso spostiamo le gambe e i piedi a sinistra per metterci a quattro zampe poi puntando le dita dei piedi sollevate il bacino nella posizione a piramide che il corpo assume sia la postura del cane quindi cercate di spingere più indietro possibile la massa del tronco del bacino cercate di portare in allungamento graduale i polpacci con lo spingere poco alla volta i talloni verso il pavimento la posizione per il momento è simmetrica perché tutte e due i lati posteriori delle gambe soprattutto i polpacci sono stirati in ugual misura e adesso modificheremo qualcosa e come piegate il ginocchio sinistro e spingetelo verso destra entrando in rotazione con il bacino con la maggior parte del busto il viso guarda sempre in basso in posizione centrale quindi il mio ginocchio sinistro è piegato gira a destra quindi ovviamente il piede sinistro non tocca più tutto il pavimento ma solamente la punta del piede sinistro cercate di stare in rotazione aumentando le più possibile il ginocchio sinistro che avete piegato adesso poggiatelo a terra e portate il piede destro davanti fate scorrere un pochino di più il piede destro schiena diritta adesso il mio braccio destro è portato dietro la schiena la mano destra trattiene il braccio sinistro quindi piego il braccio sinistro e porto l'avambraccio parallelo al pavimento con la mano che punta con le dita in avanti il palma diretto verso l'alto schiena diritta il torace aperto scendo il più possibile scendo con il ginocchio e con il bacino mantengo la mia posizione torno indietro piano piano e mi riporto nella postura a quattro zampe sentite come si modifica la sensazione della struttura articolare bacino zona lombare zona dorsale spalle puntate di nuovo la punta dei piedi a terra tornate ad assumere la postura del cane portate in stiramento tutta la parte posteriore delle gambe polpacci cosce dietro e adesso facciamo esattamente il contrario con la gamba contraria quello che abbiamo fatto prima pieghiamo il ginocchio destro lo spostiamo a sinistra e ruotiamo a sinistra il più possibile a partire dal bacino zona lombare tronco però lasciando il viso dritto di fronte piano piano dobbiamo entrare nella massima notazione possibile adesso poggiamo il ginocchio destro a terra portiamo il piede sinistro sul tappeto davanti schiena diritta portiamo il braccio sinistro dietro la schiena e prendiamo con la mano sinistra la parte alta del braccio proprio nella piega del gomito e portiamo il braccio destro parallelo al pavimento con le dita della mano tese in avanti scendete aprite bene il torace Tornio ammigo Tornio ammigo Torniamo indietro e adesso cosa facciamo? Fermi con le gambe come si trovano adesso, dovete solamente piegare le dita del piede destro, staccare il ginocchio destro ed entrare in una postura dove tutte e due le gambe sono tese, completamente tese. Allora, rimanete un istante con le dita della mano destra a terra, siete sulla punta delle dita, portate la mano sinistra sull'anca sinistra e spingete l'anca sinistra indietro facendo ruotare il bacino, quindi ruotate il bacino verso sinistra e indietro, ok? Ci siamo. Adesso anziché tenere l'appoggio sulla punta delle dita della mano destra, chiudete il pugno e poggiate il pugno a terra. Se avete modificato la rotazione del bacino a sinistra, riportatela come era, portate il braccio sinistro verso l'alto, in verticale. Triangolo rovesciato. giù, usciamo dalla posizione, poggiate tutte e due le ginocchia a terra, staccate le mani dal pavimento, rimanendo con la schiena dritta, per rilassare un po' la posizione. E adesso spostate l'altro piede davanti. sollevate quindi il piede destro, sollevate il ginocchio sinistro, mettete in, anche se parziale, in allungamento tutte e due le gambe. Prima di passare alla posizione dovete, con l'aiuto della mano destra, come vedete, prendo l'anca, il lato destro e lo tiro indietro del bacino facendolo ruotare. Adesso, anziché sulla punta delle dita, state sul pugno chiuso della mano sinistra. Questo vi aiuta ad essere più stabili. Riportate il bacino girato a destra, sollevate il braccio in alto. usciamo dalla posizione, portiamo tutte e due le mani a terra, avanziamo con il piede sinistro e lasciamo la schiena piegata in basso. Piegate le ginocchia, piegate un po' le ginocchia e poggiate pancia e stomaco sulle cosce. Apriamo le braccia di lato, le facciamo salire, poi su anche con la schiena. Come sempre, quando c'è il sollevamento e lo stiramento, dita intrecciate sopra la testa, ventre, piatto, piegamento all'indietro. Se non siete situati sulla parte anteriore del tappeto, portatevi vicino. Perché da qui inizieremo la sequenza del saluto al sole. Vedete? Ci raddrizziamo. Le mani sono giunte, i palmi uniti. Guardate quando scendono in angeli mudra. Facciamole scendere fino in fondo, poi apriamo di fronte le braccia, inspiro. Piegamento indietro, oramai dovreste aver memorizzato i vari passaggi. Per una volta o due ve li ricordo io, espirando le dita giù, inspirando il piede sinistro indietro e il viso di fronte. A polmoni pieni, retrocediamo anche con il piede sinistro, assumiamo la postura del cane, espirando posizione inginocchiata, poi seduta sulle caviglie, poi fronte a terra, in espirando ci allunghiamo, espirando torniamo su con il bacino, in espirando gamba destra davanti, ginocchio sinistro a terra, espirando piede sinistro davanti, solleviamo le braccia davanti, solleviamo la schiena, con le braccia separate ci pieghiamo indietro, angeli mudra con le mani giunte e scendiamo. E ripartiamo di nuovo su con le braccia. Espirando giù, ispirando passo al piede sinistro che indietreggia, a polmoni pieni e postura del cane. Espirando, accolacciati, ispirando ci allunghiamo, ispirando torniamo su nella postura del cane, ispirando piede sinistro davanti, ginocchio destro a terra, ispirando cammino, ispirando su, ispirando angeli mudra, giù e di nuovo su con le braccia, ispirando giù. Adesso torno ad indietreggiare con il piede destro, polmoni pieni, postura del cane, ispirando prima accovacciato e poi disteso, ispirando torno nel cane, ispirando piede destro davanti, ispirando piede sinistro davanti, poi mi sollevo e chiudo in angeli mudra giù. Adesso quest'ultima sequenza fatela da solo. Ancora E ancora un altro passaggio, se l'avete concluso. E ancora un altro passaggio, se l'avete concluso. Bene, a conclusione, rimaniamo in piedi, tranquillizziamo un po' il nostro respiro. Bene, lasciamo le braccia rilassate. Adesso se li abbiamo, i due mattoni, ce li mettiamo davanti al centro del tappeto, poco più avanti dei piedi. Cominciamo a separare le gambe. poco alla volta, fate in modo che tra un allargamento e l'altro, tra un distanziamento e l'altro, i muscoli abbiano la possibilità di stirarsi gradualmente, se no li strappiamo, creiamo dei traumi che poi richiedono parecchi mesi prima di rimarginarsi. mani ai fianchi, una bella inclinazione della schiena e della testa indietro e poi espirandoci pieghiamo e vediamo se i mattoni sono presso a poco all'altezza o comunque esattamente sotto la sommità della testa, guardate che adesso ci pieghiamo, abbassiamo il capo, ruotiamo il capo verso il basso, portiamo le mani a terra e adesso sostenendovi con le braccia cercate di separare di più le gambe, ci riuscite sicuramente. e siccome ci sono i mattoni possiamo provare ad appoggiare la sommità della testa sui mattoni. rilassate se ci riuscite a tenere la testa appoggiata, rilassate le braccia e le spalle. cercate allora di non piegare troppo le ginocchia se è possibile. rilassate le caviglie e fate in modo che le piante dei piedi aderiscano uniformemente sul tappeto. rilassate le caviglie e fate in modo che le piante dei piedi aderiscano uniformemente sul tappeto. poi giriamoci a sinistra e indietreggiamo con il piede sinistro, stiamo di nuovo nella postura del cane. adesso avanziamo con tutta la massa del corpo e mentre facciamo questo pieghiamo la gamba sinistra portando il ginocchio piegato davanti al pavimento e poi lo poggiamo a terra. una volta che avete poggiato il ginocchio a terra, provate a distanziare spostando in avanti il piede destro. poi portate il ginocchio sinistro sul tappeto, fate scivolare la gamba sinistra giù, cioè tutte quelle operazioni che oramai conoscete. state con le braccia tese, poggiate i polsi davanti a voi, mi sposto un po' più indietro. e cercate di aprire bene il petto, gomiti serrati. piano piano cominciate a far scendere la coscia destra a terra. più spingete i piedi sinistri indietro, più la coscia destra scelta. adesso poggiate il gomito destro sul tappeto. e in questo modo, avendo piegato il gomito destro, avete la possibilità di appoggiare meglio la coscia destra sul pavimento. fatto questo, anziché con l'avambraccio dritto davanti, portatelo di traverso l'avambraccio, quindi perpendicolare alla coscia destra. sollevate il braccio sinistro, piegate il gomito, fate scivolare le dita della mano sinistra sul fianco destro, entrate in rotazione, girando la schiena e girando il viso verso l'alto. ritornate di fronte. adesso poggiate invece il gomito sinistro a terra, come avete fatto prima. e questo vi permette di, poggiando sul gomito sinistro, di stirare di più la gamba sinistra. poi, come la lancetta di un orologio, il punto fisso è il gomito sinistro, l'avambraccio da mezzogiorno segna le tre. poi sollevate il braccio destro, portatelo sul fianco, portate la mano sul fianco sinistro in direzione del piede, se ce la fate prendete l'alluce del piede, afferratelo con la mano ed entrate in rotazione di nuovo. usciamo dalla posizione, abbiamo piegato il ginocchio destro, adesso dopo essere tornati nella posizione del cane, piegaremo il ginocchio sinistro. bene, dalla posizione del cane avanziamo con il ginocchio sinistro piegato e collochiamolo a terra. adesso facciamo scivolare la gamba destra indietro piano piano, puntate bene i posti sul tappeto, braccia serrate, petto aperto in avanti. ho già piegato il gomito sinistro a terra, quindi come si situano queste due parti? il gomito sinistro sta presso a poco alla stessa altezza del ginocchio sinistro, da mezzogiorno passa alle tre. sollevate il braccio destro e portate il dosso della mano sul fianco opposto entrando in rotazione. riportiamoci di fronte, tutte e due le mani poggiate a terra. c'è un passo indietro dove le braccia sono serrate e dobbiamo procedere nella direzione contraria, quindi facciamo scivolare ancora di più la gamba destra, pieghiamo il gomito destro. adesso dobbiamo retrocedere con l'orologio da mezzogiorno alle nove. solleviamo il braccio sinistro, lo portiamo al fianco e cerchiamo con la mano o con le dita di prendere l'alluce del piede entrato in rotazione. solleviamo il braccio sinistro, le dita di prendere l'alluce del piede entrato in rotazione. via via sciogliamo la posizione, richiamiamo indietro la gamba sinistra, ci sediamo a terra, gambe incrociate. bene, la nostra sequenza di posture è conclusa, adesso ci concediamo qualche secondo ripristinando quel silenzio motorio che è fondamentale e che è propedeutico e quindi necessario assolutamente alla nostra condizione meditativa. allora prima come sempre lo sappiamo facciamo ci sono alcuni cicli di capalabati per far sì che ci sia una condizione di stasi del pensiero accettabile perché si possa procedere poi a quel silenzio fondamentale al stato meditativo. vi ricordo i passaggi delle varie mudra. allora angeli mudra la prima è questa con le mani giunte schiena dritta mi raccomando con le dita che sono presso a poco all'altezza del mento. nella seconda i palmi si aprono senza far scendere le mani, i palmi si aprono, si dischiudono e la punta delle dita viene leggermente inclinata verso il basso, come se volessimo scorrere l'acqua dai palmi delle mani. questo è il secondo passaggio che entrerà quanto decidete voi. il terzo passaggio semplicemente riportando la punta delle dita verso l'alto anziché tenere il bordo esterno delle mani unite le dispieghiamo portandole a coppa che è con i gomiti vicini e una posizione comoda in modo che le braccia possano poggiare sul petto. praticamente è come se stessimo incorniciando il viso. allora questa sequenza ovviamente viene fatta anche nei rituali effettuati nei rituali religiosi. questo l'ho potuto constatare in uno dei miei viaggi in India, in Tamil Nadu, nell'isola di Rameshwaram, quindi l'estremo sud dell'India. è un'isoletta poco distante dalla terraferma, si accede dalla terraferma, cioè dal subcontinente indiano a questa isoletta Rameshwaram attraverso un lungo ponte ferroviario lunghissimo e queste isolette hanno una piccola porzione di terra, circa poco meno di 60 km quadrati e lì quando viaggiamo insieme a mia moglie ci siamo fermati alcuni giorni e ho seguito un po' tutti i riti proprio perché la cultura è particolare e ho potuto notare che questi angeli, questa sequenza che vi sto diciamo proponendo, l'ho ritrovata anche nei riti di fronte alle divinità. quindi la prima era questa, angeli in questa posizione, poi c'era la seconda, come vi ho detto, praticamente piegando le mani verso il basso e la terza era incrociare gli avambracci e toccare le orecchie, probabilmente questa posizione delle braccia era collegata alla divinità Ganesh e quindi di nuovo angeli in questa posizione. poi il passaggio successivo, adesso sono in piedi, stando in piedi il praticante incrociava le gambe e faceva tre inchini piegando le ginocchia questa era tutta la ritualità di offerta, quindi vedete che questi passaggi 1, 2 si ritrovavano ok? bene, allora facciamo il nostro capalabati, vi ricordo allora movimento addominale che guida tutta l'iperventilazione e adoperiamo come sempre le braccia prima in una posizione con i gomiti paralleli al pavimento con le mani aperte verso l'alto in modo da aprire bene il torace, da aprire le costole ma cercando di limitare l'attività respiratoria solamente al ventre e poi successivamente le braccia vengono sollevate cercando di aprire anche le costole superiori. allora insieme più su stop, giù, abbassiamo, poggiamo i polsi sulle ginocchia, spalle rilassate, una respirazione tranquilla di nuovo braccio aperte nel primo stadio su giù giù polsi poggiati sulle gambe, silenzio terza fase, braccio aperte giù giù Grazie. Le mani giunte nella prima forma di angeli. Cercate di non stare con le braccia tese. I palmi sono delicatamente accostati. Le dita unite puntano dritte verso l'alto, all'altezza del mento. Non pensate a nulla. Fate solamente esprimere il concetto, se questo possiamo accettarlo, ma non è un concetto razionale, è una sensazione, un'esperienza, piuttosto che un concetto nel senso letterale del termine. Le mani giunte. Passerete alla seconda forma, unendo i dorsi delle mani quando vorrete, e passerete alla terza forma quando vorrete, portando i palmi uniti, è come un fiore che si apre e sboccia con il gesto dei palmi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.